Buongiorno, sono Jacques Casadi, sono diplomato in aromaterapia clinica e scientifica all'Università di Strasburgo e sono il titolare del Bistro del Profumo, il negozio che si trova in via in un paio di portati cinese, 37 a Milano, zona l'area. Grazie a tutti. Vi aspetto tutti qui al Bistro del Profumo per trovare il profumo che vi raccomanda, che vi rispetti anche, che vi fa stare anche qui.